Ciao a tutti, sono qui con la mia recensione del secondo arco del manga. Ho appena appena terminato di rileggerlo, ho cominciato questo pomeriggio mentre ero in coda per fare la spesa in una delle interminabili file che si sono venute a creare in questi giorni. Nonostante ciò la mia lettura comunque è stata approfondita. Avevo già recensito tramite testo questo secondo arco qualche anno fa. Questa sarebbe la mia terza rilettura. Ed è proprio vero che quando si rilegge si notano sempre cose nuove. Devo dire che rispetto alla mia ultima recensione la mia opinione è drasticamente peggiorata. Sto cercando di capire con onestà se sia perché in questi giorni ho molto discusso sul fatto che nel manga Usagi sia una Mary Shue. Però ho riletto per bene questo arco e mi sono resa conto che in realtà il mio errore non è stato commesso oggi, è stato commesso anni fa. Cioè anch'io ho visto nel manga cose che non c'erano. E l'ho fatto perché comunque la Takeuchi ha una preferenza per inserire nelle sue storie un sacco di elementi affascinanti che ampliano la fantasia del lettore. Però se uno si ferma solamente a quello che effettivamente c'è nella storia si rende conto che è abbastanza inconsistente. Allora non starò a fare un riassunto di tutto il secondo arco del manga perché penso che se siete qui è perché lo conoscete. Vado un po' per punti anche se c'è tantissimo da dire. Parto innanzitutto dalle inner senshi nel secondo arco del manga. Non hanno un grande ruolo. Abbiamo un primo act in cui arriva Kibiusa. Nei successivi act, credo sì, il 2, 3, 4 di questo arco, vengono rapite nell'ordine Mars, Mercury e Jupiter. Che poi io ho sempre criticato il manga per non averle caratterizzate abbastanza. In realtà in questi act si vede un minimo di caratterizzazione di queste ragazze. Il problema non è tanto questo. Il problema è la loro totale inconsistenza nella storia. ovvero la loro mancanza di un ruolo, di un'utilità. E persino di un minimo di considerazione per loro da parte della protagonista. Ora voi mi direte, non è vero, Usagi teneva molto alle sue amiche. Ci è stato detto che teneva alle sue amiche. Non ci pensava più di tanto. Mi faccio notare che quando viene rapita Mars, Usagi piange tantissimo. E poi nel successivo act, e io sono rimasta stupita notando questa cosa adesso, nel successivo act sembra che stanno con le mani in mano a girarsi i pollici perché non sanno dove è finita Mars o che peccato. Emi va a nuotare per concentrarsi, Usagi è depressa e va alla stessa piscina di Emi con Naru per riprendersi ed è tutta allegra. Uè, hanno rapito la tua amica! E il bello è che la storia dà per scontato come se non le sta succedendo niente. Ma che ne sai? Questi qua sono nemici terribili, che tra l'altro erano entrati nella storia in maniera davvero inquietante. e tu sei così serena ad andare in piscina a divertirti? Ma io boh! E poi viene rapita anche Emi, tra l'altro in una sequenza fotocopia di quella del rapimento di Mars. E Usagi di nuovo entra in crisi. Si fa qualcosa in merito? No! Di quello che fanno è andare avanti nella loro vita di tutti i giorni, ma Moro va persino a scuola. Direte, non potevano fare altro? Non lo so, avevano dimostrato che in teoria, che ne so, avrebbero potuto fare una sessione di gruppo, concentrarsi, unire tutti i loro poteri e provare a fare qualcosa. Questo tipo di soluzioni erano già venute fuori nel primo arco. E quindi perché qui così sereni in merito? Quella che si stava preoccupando molto per Mercury e Mars era Jupiter. Jupiter che in effetti stava male in quei giorni ed era lì a riflettere parecchio insomma su che cosa fare per queste ragazze. Anche Jupiter alla fine però viene rapita esattamente come le altre sue compagne. Un terzo rapimento è venuto esattamente nello stesso modo, è l'apice dell'incompetenza. Non si sono minimamente mosse questo gruppo di guerriere per evitare che succeda una terza volta la stessa cosa. Usagi non sa far altro che piangere mentre le altre vanno via. Voi direte, beh, erano loro in teoria che dovevano proteggerla e non viceversa. Sì, non riescono a fare niente queste ragazze, nessuno la protegge. Avevo avuto questa impressione, adesso Crystal non me lo ricordo, nella mia seconda lettura di questo arco, che almeno Venus avesse avuto un ruolo più importante. In realtà, a parte poi in seguito accompagnare la famigliola reale in giro, scarrozzarlo in giro, neppure lei fa niente. Quindi viene rapita anche Jupiter, poi sta per venire rapita anche Minako, e con lei non riesce la cosa. La sua scusa per il fatto che non... cioè nel suo caso è diverso, lei dice a... adesso non mi ricordo a quelle delle nemiche, lei dice, questo siamo ancora sotto l'anno della Vergine, non dovrebbe essere quello. Stava dicendo un altro pianeta, e quindi io non perderò. E però, sapendo un minimo di... di quello che sta dietro la produzione, e che la Takeuchi ha fatto di Minako la sua prima protagonista dell'opera che lei davvero ha ideato da sola, ovvero Sailor V, si vede una smaccata preferenza per la ragazza che lei aveva ideato per conto suo, a dispetto delle altre. nessuna di queste guerriere Sailor fa un cavolo in questa storia, in questo arco, nulla, nulla. Una volta avevo detto che a protezione di Usagi poteva esserci invece di quattro Inners, anche una sola, tanto Venus era l'unica che aveva un qualche ruolo. in realtà, sì, sì, però a un certo punto uno si chiede perché esistono, solo per far preoccupare Usagi, ecco. Perché ad un certo punto, più in là nella storia, Usagi viene rapita quando va a cercarle. poi le fa risvegliare lei col suo potere, le sue amiche sono state rapite, però non si sa quanto tempo, sembrano settimane, giorni, tempo, parecchio tempo. Le altre si svegliano e guarda caso, visto che era una scusa il farle rapire, non era un rapimento vero, ed era come se lo sapessero anche i personaggi, però, gli altri, Usagi, Mamoru e Kibiusa, perché non si stavano davvero preoccupando. Ok, e infatti le altre si svegliano, e si dicono, Ray lo dice, che cosa ci è successo? Non quanto tempo è passato? In pratica, il rapimento ha avuto zero conseguenze, non che sono state male in tutto quel tempo, semplicemente si sono addormentate per tutto il periodo e appena le risveglia Usagi, siccome si trovano in questo palazzo che assorbe tutta l'energia positiva, si riaddormentano subito. Ohè! Il senso, il senso di questa azione qual era? Semplicemente, e si capisce mentre lo si legge a questo punto, il senso era quello di, per l'autrice, di dire, aspetta che non mi sono scordata di queste qui, eccole. Non fanno un accidente. Dall'inizio alla fine. e quindi qui non è tanto, sì, c'è anche un problema di caratterizzazione, perché non le si vede combattere in pratica. Però, non fanno niente neanche nel futuro. Nel futuro dovevano proteggere la principessa, la principessa, la Neo Queen Serenity, e si dice, ecco, si dice che sono divinità, queste divinità che dovevano proteggerle. Anche in quel caso non riescono a proteggerle, ma qual è il loro scopo? Perché le chiama Guardians se alla fine Sailor Moon fa tutto da sola? Lei, Mamoru, e e Kibiusa. Chibiusa, chiamiamola con la pronuncia corretta, giapponese. Non servono a nulla. E questo è un punto. In realtà, quello che mi era piaciuto a suo tempo, di questo secondo arco del manga, che ho trovato più positivo, maggiormente positivo rispetto a al primo arco, era la caratterizzazione dei nemici. Finalmente, rispetto al primo arco, si aveva la sensazione che ci fosse un po' di più di consistenza nella loro storia. Nel primo arco, i nemici erano solo un ostacolo che evitava ai poveri endibioni e sereniti di ritrovarsi, quindi c'era una backstory, sì, per i generali, che però non si è capito esattamente come sono diventati cattivi, se non erano buoni un tempo, e poi sono stati soggiogati, e Beryl voleva endibion. E ok. Qui invece c'era una storia un pochino più affascinante, ovvero si diceva che nel futuro c'era stato questo criminale, Death Phantom, che nella Terra aveva cominciato a riportare in vita omicidi, stragi, così sereniti lo aveva relegato in un pianeta lontanissimo, Nemesis, questo personaggio dai poteri sovrannaturali, era morto lì, si era fuso col pianeta, e in pratica era diventato un tutt'uno col pianeta, e in quello stesso pianeta poi, molto furbamente, Usagi aveva inviato altri criminali, che erano contro il suo regno. E quindi poi queste persone erano state soggiogate dal pianeta, e poi tutte insieme avevano formato il clan della Black Moon, e stavano andando ad attaccare nel futuro il Silver Millennium, il nuovo regno argentato. Mi ricordo che quando avevo letto questa storia, mi era sembrato affascinante il fatto che questi nemici avessero uno scopo che poteva essere profondo, ovvero erano contrari alla vita eterna che portava il cristallo d'argento, perché il cristallo d'argento aveva reso millenaria non solo la famiglia reale, ma tutta la popolazione terrestre. C'è un punto in cui Demando, il principe della Black Moon dice è contro natura che si viva così a lungo. Noi fermeremo questo abominio. Ok? E io su questo concetto, sulla base di questa frase, nella mia testa, me ne sono resa conto in seguito, ho cercato di capire che cosa stessero cercando di dire, no? Che anche al giorno d'oggi, comunque, tanti culti, tanti correnti di pensiero, dicono che non bisogna cercare di ottenere più di quello che ci vuole dare la natura, ok? Quindi io avevo reso quello che mi stava raccontando l'autrice, pregno di questi miei pensieri collegati, sulla base delle altre cose che sapevo. In realtà, se io leggo solo quello che ha scritto lei, lei non ha scritto altro che questo. E leggendo meglio ancora, leggendo meglio, stavo cercando di capire la reale motivazione che aveva portato questi del clan de la Black Moon ad andare contro il regno di Usagi e di Serenity d'Endimion. Era tutto qui. Perché dovresti voler distruggere un posto, un pianeta, dove tutti sono felici e tutti sono millenari? Qual è? Per quale ragione? Solo perché sei cattivo, di fatto. Avrebbe avuto un senso se, per esempio, fossero stati millenari solo i membri della famiglia reale? Allora sì, aveva un senso l'invidia verso queste persone che riservavano solo per sé queste capacità, queste caratteristiche positive, lasciando tutti gli altri nel fango. E invece no. Questa regina era così buona che lei aveva portato tutti con sé. E allora esattamente quali sono le cose negative che derivavano da questo regno? Questo regno comandato da Serenity d'Endimion non viene criticato in alcun modo. in questo manga. È perfetto quello che ci viene detto. E quindi, per contro, non possiamo far altro che avere una visione completamente negativa di quello che vogliono fare questi nemesiani, questi del clan della Black Moon. Non c'è proprio alcuna ragione perché vogliono andare contro a loro se non in generico perché è innaturale, è contro Dio. Tutto qui? Spiegati un po' meglio. No, non mi spiega la motivazione l'autrice. Non è interessata a farlo perché proprio come una favola sono cattivi, odiano i buoni e tanto ti deve bastare. E rimane una storia labile in questo senso, inconsistente. parlo prima di passare alla mia argomentazione principale di un'altra cosa che è parecchio importante. Io ho avuto, se avete sentito la recensione del primo arco del manga, un'impressione sommariamente positiva di quello che mi veniva raccontato nel primo arco perché in sostanza la Takeochi nonostante tutto ha raccontato ciò che sapeva, ovvero una storia d'amore. Era la storia di il primo arco di Serenity d'Andimion che tra mille difficoltà nel passato erano stati separati e nel presente si ritrovavano in nuove vesti e piano piano riuscivano finalmente a vivere, a coronare il loro sogno d'amore. aveva un senso che siccome parlavamo di una storia di questo tipo il punto di vista fosse principalmente quello di Usagi che le sue amiche fossero lì, sì ma non avessero questo grande ruolo e che quindi fosse tutto basato su lei e Mamoru. Aveva un senso da questo punto di vista e già allora però avevo sottolineato che c'era un problemino con questo tipo di struttura e di scopo che si era risolto con la fine del primo arco cos'altro hai da raccontare se i tuoi Serenity ed Endimion si sono ritrovati a quel punto hai esaurito lo scopo per il quale hai creato la storia e adesso devi trovargli un'altra direzione. Ecco è qui che l'autrice ha incontrato grandissime difficoltà perché non ha saputo bene che direzione dargli e ha continuato così come nel primo arco a incentrare questa storia tantissimo su Usagi e sui suoi sentimenti e non andava più tanto bene perché aveva un senso nel primo arco quando comunque lei aveva questo enorme problema che riguardava la stessa natura di ciò che lei era o un concetto più grande di quello che poteva comprendere una ragazzina di 14 anni del presente una ragazzina normale ed era chiaro che poverina fosse focalizzata su se stessa ma una volta che ha avuto il suo letto fine esattamente che cosa ci racconti a quel punto allora nel secondo arco si nota tantissimo che l'autrice non sa dosare bene tutti gli elementi che continua a inserire ovvero le le inners i nemici black moon tutti i concetti affascinanti però alla fine alla fine purtroppo purtroppo il punto è sempre che cosa prova Usagi in merito a tutto questo ed è davvero labile cioè a un certo punto viene da dire chi se ne importa o in maniera meno gentile chi se ne frega perché in pratica sta succedendo il mondo intorno a Usagi sta per collare il presente il passato così e stiamo sempre a pensare che cosa pensa lei mi sa che l'autrice stessa se ne è resa conto perché a un certo punto inizia a spaziare un attimo e a parlare appunto dei sentimenti di qualcuno che non sia Usagi in particolare Kibiusa e soprattutto Pluto e in effetti Pluto è l'unico elemento positivo di questa storia assieme un po' a Kibiusa fino a un certo punto Kibiusa no non ce la faccio dirò Kibiusa perché tutta la parte che riguarda Usagi e non pensavo di dirlo tanto presto è tremendamente Mary Shoe che cos'è una Mary Shoe una Mary Shoe è un personaggio dipinto come perfetto che non fa errori che tutti amano e le uniche persone che non la amano e che la criticano sono gli antagonisti ed è così in questa storia le uniche persone che criticano Usagi che la odiano sono i nemici e Usagi fa degli errori in questa storia parecchi anzi no uno grosso ovvero essere gelosa di Kibiusa senza alcuna ragione come facevo notare in altre sedi non è il problema alcuni mi hanno detto sì ma tu hai personaggi perfetti scusami il fatto stesso che lei sia gelosa di Usagi di Kibiusa dimostra che non è affatto una Mary Shoe perché non è perfetta allora no il problema non è che che abbia questo difetto il problema è che questo difetto non ci viene presentato come tale ovvero non viene riconosciuto come tale dagli altri se voi andate a guardare come viene trattato questo questa intemperanza di Usagi dai personaggi che le stanno intorno vediamo che quando lei è gelosa di Kibiusa e comincia ad assegnarle le colpe perché pensa che sia un po' anche colpa sua se sono state rapite le sue amiche l'una la ferma le evita di picchiare Kibiusa poi Usagi piange piange c'è per caso qualcun altro che le va a dire senti ma che piangi cioè magari devi pensare a quella bambina che sta male anche lei o ti stai comportando in modo infantile non lo dice nessuno ma neanche una minima goccina di critica Mamoru dopo le dice solo allora ti sei calmata e poi la consola anche Minako non dice una parola su questo le altre amiche anche nessuno dice mai niente su come lei si comporti male nessuno critica Usagi cioè la rende responsabile delle cose sbagliate che fa e questo è tipico della Mary Shaw ma questa era solo una delle argomentazioni che era quella che mi era rimasta più in testa in realtà più sono andata avanti più l'ho visto questa cosa ad esempio c'è un punto in cui Usagi viene strozzata da Saffir il fratello di Demando che le dice è tutta colpa tua mio fratello si è fatto traviare da da Wiseman perché tu sei una donna orribile e non dovresti esistere e in questa scena mentre si vede fino a due secondi fa Saffir le stava parlando in maniera calma poi la attacca dal nulla e quando ci viene detto questo noi vediamo che lui ha un volto mostruoso ok la sta criticando tremendamente e ingiustificatamente perché non è una donna orribile non esageriamo però proprio che la trama ci presenti il nemico che la critica in questo modo e con Usagi che risponde subito e gli dimostra che no lei è in realtà bella brava e coraggiosa ci dimostra che i cattivoni solo i cattivoni possono pensare male di lei cioè non si capisce perché Saffir se ne sia uscito con tu sei una donna orribile esagerato cioè che t'aveva fatto era il salto era un po' era un po' repentino è fatto solo per poter mostrare che lei non lo è affatto che lei non ha questa qualità negativa e non ne ha alcuna in verità e soprattutto questo concetto è dato da una miriade miriade di scene che in realtà non si riguardano solo Usagi bisogna essere onesti da questo punto di vista non esiste un personaggio che in qualche momento non pensi che Usagi è la meglio chi vi usa tutto il tempo pensa io vorrei essere come la mia mamma guarda come è coraggiosa oh si l'ormuna avevi tu così tanta forza Mamoru tutta l'esistenza di Mamoru ruota intorno a lei che scopo io se non posso proteggerla ha sempre questa cosa dovrei proteggerla dovrei proteggerla e non pensa ad altro non ha un'altra personalità oltre a questo scopo proteggerla perché lei è quella che fa tutto e quindi bisogna andarle dietro è sia al contempo principessina da salvare che che in realtà principessa guerrera che salva tutti Pluto oppure lei a un certo punto pensa oh quanto ti ho ammirato regina serenity anzi non lo pensa glielo dice in faccia e glielo deve dire perché alla Takao ci piace tantissimo che la sua Usagi provi questo sentimento di oh davvero qualcuno mi ammira in questo modo tutti tutti pensano queste cose di Usagi troppe troppi complimenti ad un certo punto e anche qui mi si è opposto qualche volta questa argomentazione ma Usagi è sì per forza gli altri notano che è così brava lei è stata capace di tutto è la dea madre ho sentito è colei che 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 comunque ha questi poteri no è normale che gli altri lo notino sì ma perché tu come trama nella storia mi devi raccontare ogni 5 secondi il complimento che le fa tale personaggio oppure quanto tale personaggio pensa che lei sia grandiosa la tacauchi riempie la sua storia di questo tipo di contenuto e non solo con riguardo a Usagi bisogna dirlo è tutto un incensare i protagonisti a me a me dà fastidio perché non non è il tipico del di chi mi dice le cose invece che mostrarmele ovvero non mi fai sentire che ad esempio Reino è meravigliosa tu lo fai dire a un altro personaggio e allora io devo crederci perché l'altro personaggio lo ha detto no mostrami che è meravigliosa è una tecnica di scrittura veramente semplice quasi da fanfiction quasi da fanfiction cioè da autore che ha appena cominciato a scrivere non sa come altro rendere comunque le qualità che vuole assegnare ai suoi personaggi e quindi usa questo stratagemma ultra banale per trasmetterci che che sono stupendi tutte le persone di cui sta parlando perché di fatto tutte sono Mamoru compreso a un certo punto viene inserito questo personaggio Unkohai Ito Asanuma che è lì solo per adorare sia Mamoru che Makoto serve solo per quando viene inserito perché Usagi possa sentire che il suo ragazzo è il meglio che esista a scuola di fatto l'introduzione di Ito Asanuma avviene così con i loro due che si incontrano al crown al bar gestito dalla sorella di Motoki e Ito dice guardando Usagi no ma il senpai ha tutto è bravissimo a scuola è bravissimo nello sport e io a Ito Asanuma voglio diventare come lui e Usagi è molto fiera di questa cosa e dice allora Mamoru è molto apprezzato in effetti Ito Asanuma poi serve anche a darci una visione un attimino esterna di qualcuno che ha percepito che Mamoru è speciale lui lo vede mentre si sta curando da solo ed è molto sorpreso e poi questo ragazzo va a parlare anche con Makoto diventa un ammiratore anche di lei e in pratica la sua funzione è quella di farci capire anche quanto Makoto in realtà è matura e splendida perché gli dice noi faremo le nostre cose tra l'altro mentre glielo dice mi ricordo che quella vignetta mi piacque parecchio ma Makoto guardandola adesso bene Makoto sembrava una 25enne trentenne non una 14enne e non mi dite che era perché una dea questa argomentazione l'ho sentita parecchia in questi ultimi giorni e non è che mi dà fastidio se voi lo pensate come fanno ognuno è libero e se uno può godere di una storia nel modo che decide di leggerla in cui decide di leggerla perfetto ai gusti non si comanda infatti è solo che se io dico non mi piace voi mi rispondete così e sembra che quella che sta pensando male tanto per pensare male sono io mi infastidisco qui parlo per me ma penso di parlare in generale per tutti quelli che notano qualche problema col manga la risposta tipica è sempre tipo non lo hai capito bene cioè non hai capito cosa stava cercando di dirti l'autrice sì che si capisce cosa cerca di dire l'autrice forse è più banale di quanto si pensi in realtà il manga per cominciare a parlare di quelle poche cose così positive che però ci sono comincia a respirare quando guarda caso si allontana dal parlare di Usagi della magnificenza di Usagi ovvero quando finalmente si inizia a considerare i sentimenti e il punto di vista di qualcuno che non sia lei ciò avviene inizialmente con Kibiusa che purtroppo però come vi dicevo sta sempre lì ad adorare la mamma da principio e con Pluto in particolare perché Pluto non è lì come le altre che dice io devo andare a combattere perché devo proteggere quella ragazza riferendosi a Usagi no il dolore di Pluto è nello stare rinchiusa lì nella zona dello spazio-tempo senza poter andare ad aiutare le altre in generale nel combattere come guerriera sailor e quindi di lei vediamo la sua solitudine vediamo la tenerezza del rapporto che ha costruito con Kibiusa che era un'altra persona che come lei veniva isolata e quindi le due si comprendevano parecchio e quando Kibiusa da Black Lady passa a tornare se stessa per via della morte di Pluto beh è comprensibile è carino quando la Takeo ci provano a parlare di qualcuno che non è Usagi finalmente insomma si inventa altre dinamiche che hanno un senso e che servono a renderci i personaggi cari non è che l'autrice non è capace è che non ne ha molta voglia è così concentrata su nell'incensare Usagi che spesso penso che perda di vista le sue stesse potenzialità come ultima cosa e mi dispiace adesso dire questo perché ne avevo colto qualcosa di un pochino diverso pensavo di esagerare ovvero una volta io avevo sostenuto che a Usagi non importasse più di tanto delle sue amiche mi è stato detto anche nei commenti di Youtube che non è vero che comunque lei soffre molto sì allora qui è una comprensione di che cosa è l'amore che potremmo dire che è personale ma non credo tanto allora amore non è solo quello che ti fa felice te amare è volere il bene dell'altra persona innanzitutto abbiamo questa scena emblematica in cui Usagi a un certo punto ha perso sia Mars, Mercury che Jupiter ed è a scuola e dice mi ero tanto abituata a loro sento una fitta al petto allora ed è tutto quello che dice in merito qui si percepisce che il suo amore riguarda come lei si sente con riguardo la loro mancanza cioè è preoccupata per loro perché lei si sente male perché non ci sono non c'è un solo pensiero da parte sua su come stiano queste ragazze almeno in questo punto qui ma anche in seguito in generale perché come ho detto a parte non dirlo dimostra anche di non avere loro come primo pensiero si distrae tantissimo per lei conta per Usagi conta lei non contano tanto gli altri è parecchio egoista e il problema è che non ci viene mostrata come tale se non quando appunto si dimostra egoista nei confronti di di Cibiusa perché Usagi soffre per questo sembra soffrire però perché si scopre di essere cattiva e tra l'altro no sto avendo dei ricordi sul fatto che alla sua età o forse quando ero più giovane mi sono sentita in uno stesso modo qui si tratta più che altro di quella fase adolescenziale in cui una ragazzina si trova a capire che è un po' cattiva anche lei che ha sentimenti insomma che non sono così positivi sempre comunque quindi il suo vero dolore non è tanto per il prossimo quanto per aver scoperto in sé questa fallacia e questo è quello che percepisco in Usagi tra l'altro come supera questo suo egoismo questo problema semplicemente riflettendoci è come se a un certo punto le se si è acceso un interruttore ebbe detto no ma non posso essere così no io ho un mucchio di gente che mi ama e quindi io devo essere forte e coraggiosa mi viene in mente un termine inglese be accountable for your actions cioè provare le conseguenze delle proprie azioni ecco Usagi non prova le conseguenze delle proprie azioni il fatto che lei fosse gelosa di chi bi usa non ha causato problemi se non a lei stessa l'unico problema era che lei stava male e quindi e come ha risolto questa cosa da sola vi dicevo il fatto che l'abbia risolto senza che questo problema abbia creato delle conseguenze specifiche lo rende un non ostacolo un ostacolo finto o un ostacolo che non ha una concretezza è semplicemente una cosa che provava lei e questo attenzione pensateci bene noi stiamo parlando di una storia in cui abbiamo mostri da combattere una minaccia dall'est aliena che sta minacciando che sta rendendo pericolosa la vita sulla terra e quello che è l'ostacolo che l'autrice ci mostra è questo ostacolo emotivo in Usagi c'era tanto 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 altro da dire e non e questo è quello che sceglie di raccontarci lei è molto shoujo e non è una colpa in sé il problema è che gli altri shoujo quantomeno scelgono di mantenersi bassi o almeno le autrici parlano di quello che sanno fare e ci raccontano solamente la storia di ragazzini che stanno a scuola che non che si lamentano perché il fidanzato non le ama perché sono gelose eccetera e ha un senso tu le perdoni sono ragazzine stanno pensando alla loro vita personale Usagi non è una ragazzina che sta pensando alla sua vita personale impunemente cioè lei è tutta distratta lì a pensare ai suoi piccoli drammi emotivi quando intorno a lei le crolla intorno a tutto e c'era tanto altro da dire su questo e invece l'autrice sceglie di raccontarci questa questa tematica labile rispetto alla potenzialità che aveva avevano gli elementi che aveva inserito nella trama Mamoru volevo parlare un attimo del finale perché mi è venuto in mente adesso Mamoru ad un certo punto viene rapito di nuovo io ho sempre pensato maluccio del finale della trasposizione dell'anime storico della seconda stagione perché non è niente di che ho pensato che fosse un po' una copia del primo posto che il finale del primo arco era diverso anche il finale di questo secondo arco è molto simile al primo abbiamo di nuovo Mamoru che viene rapito e che fa male a Usagi la picchia e anche qui di nuovo per dimostrare che Usagi pensa più a se stessa che a quello che provano gli altri quando Mamoru la colpisce l'autrice ci tiene tanto a farci dire no mi ha colpito con lo scettro che rappresentava il nostro amore non come sta lui ma come sta Usagi che si è vista infliggere questa ferita emotiva dall'amore della sua vita vabbè lasciamolo da parte ci viene dimostrato che tutti invidiano a Usagi questo questo ragazzo che ha compresa appunto la figlia che ha questo complesso edipico non indifferente si dice di edipo o di elettro non lo so adesso mi sto confondendo il finale del secondo arco in sé guardando il ruolo di Mamoru era proprio me lo ricordavo migliore Mamoru di nuovo viene rapito da una cattivona e per fortuna questa volta il focus non è su di lui che viene redento con la forza dell'amore di Usagi anzi questa questa scelta di farlo diventare cattivone è così noiosa per la stessa autrice che in pratica nel momento in cui Kibiusa torna a se stessa anche Mamoru è tornato normale si ha un senso perché era sotto l'influsso di Black Lady però risolta così in un attimo qual era il senso? ho visto di recente la trasposizione animata della scena finale di del manga senza la bellezza dei disegni della Takauchi in questo punto in cui era molto protagonista Pluto si è perso tanto della magia e della bellezza di quello che ho visto della bellezza grafica di quello che ho visto su quelle pagine perché Pluto che usa il la suo potere per fermare il tempo poi fa un saluto infinito a salutare tutti quanti è abbastanza inverosimile qualcuno mi ha detto una volta e vabbè in tutti in tutti gli anime quando uno muore si prende sempre un sacco di tempo per salutare si è vero si prende sempre un po' di tempo per salutare ma qui era proprio un discorso lungo Pluto prima di morire a momenti poteva scrivere il testamento prende il Diana dalla porta del tempo si prende il tempo di salutare chi vi usa di fare complimenti a Sailor Moon di guardare Endymion e dirgli quanto vi desideravo e solo poi schiatta cioè è lunga questa cosa si perde un po' in pathos non si perdeva tanto nel manga perché i disegni in quel punto erano davvero bellini se c'è una cosa in cui è brava la Takeuchi ecco così non si pensa che io la detesti in toto che non è vero tra l'altro nel disegnare i volti chiamiamo le scenografie ma no nelle inquadrature ecco ecco fa sempre queste inquadrature di grande effetto ad esempio quando Pluto guarda Endymion e lui ha questo mantello svolazzante è molto il tratto leggero della Takeuchi te lo fa immaginare in movimento quella scena e senti la fascinazione che lei prova per questo per questo re e però scusate se continuo a inserire eccezioni e però qui abbiamo solo Pluto che come vi dicevo è l'unica che insieme a Kibiusa spicca in questa storia oltre Osaghi perché beh Pluto aveva deciso di essere innamorata di questo re perché era l'unico uomo che vedeva poveretta però la scelta di farla innamorare era anche perché alla Takeuchi piace dire che tutti desiderano l'uomo di Osaghi e lo desidera Pluto lo desidera Kibiusa lo desiderava Beryl e non è per Mamoru in sé è più che altro per generare un sentimento di gelosia nei confronti di Mamoru da parte di Osaghi e della lettrice per farci percepire che no lui è mio nostro e è tanto carino che no è brutto quando cercano di portarcelo via ma è carino che altri lo desiderano quando in realtà non c'è speranza perché lui ama noi questo è il sentimento che sta cercando di sobillare l'autrice molto molto comune negli shoujo ma come ho detto questo non è uno shoujo comune è uno shoujo con argomenti alti si parla di distruzioni del mondo di maligni che arrivano da chissà cosa e quindi se si fosse potuto andare un po' oltre questi argomenti proprio banali sarebbe stato un bene finisco parlando di Kibiusa Kibiusa mi è parso e non solo adesso questo da sempre alquanto inverosimile un po' la sua backstory di bambina bullizzata perché questo veniva detto ovvero che lei era una bambina molto sola da una parte veniva detto che era viziata dall'altro era che era molto sola e si vedevano queste scenette di altri bambini che la prendevano in giro dicendole tu sei una falsa principessa non sai neanche usare il cristallo d'argento ed era il motivo che spingeva Kibiusa a rubarlo ok è un po' forzato cioè questa era la figlia di una mega regina potentissima mattissima da tutti considerata una dea e ci sono bambini che si permettono di dirle questo allora Usagi era una madre terribile paradossalmente forse in questo senso c'era un po' di coerenza perché Usagi era una madre terribile capace di far sentire sua figlia così isolata e sola perché pensa sempre a sé anche nel futuro la spiegazione ufficiale è perché era occupata e ci sta ci sta che la figlia in realtà non sia seguita come un tempo anche perché sono passati 900 anni di infanzia per questa bambina quindi magari l'inizio era seguitissima poi col tempo cioè è difficile tenere nello stesso modo dare le stesse attenzioni a una bimba che comunque rimane bimba per nove secoli però questa cosa del mettere Kibiusa in una situazione da ambiente scolastico comune considerata la sua situazione è veramente tirata per i capelli ed è fatta solo per farci pensare che appunto lei fosse vissuta in queste traversie si poteva trovare un modo migliore per esprimere per farci sentire che Kibiusa era da sola infatti mi è piaciuta comunque tantissimo la sua amicizia con Pluto e sono ho percepito che davvero in lei c'era questo sentimento così positivo per Pluto da toglierla da questo incantesimo a cui l'aveva assoggettata a Wiseman e però e però dopo diventa di fatto una Usagi 2 con tutti che le dicono oh ma tu sei bravissima sei destinata a diventare la nuova erede che va bene visto dopo tutta quella sofferenza iniziale finalmente che qualcuno le faccia avere coraggio in se stessa è ok però che ci dirigiamo verso una Usagi 2 comincia a percepire si percepisce ulteriormente sul finale quando Kibiusa ci dice saluta Usagi dicendole tu sei quella a cui ha voluto più bene di tutti è Pluto ma non è vero tra l'altro per concludere rifacendomi un altro mio video in cui dicevo dire invece che mostrare Usagi a un certo punto ci dice che a lei Kibiusa mancherà che era triste perché si era affezionata a lei mentre vivevano quotidianamente in casa e io ero lì che sono andata cioè avevo freschissimo tutto tutto l'arco che ho appena letto dove dove ti sei affezionata a questa bambina se ci sono state due momenti incroce tre in cui ti è stata un po' simpatica e per il resto del tempo ti generava sentimenti negativi questo è esagerare cioè quando ti sei affezionata a lei lo ha deciso l'autrice ha deciso che in quei momenti in cui non ho mostrato secondo me però è carino farle dire che sei affezionata già è esagerato se poi mi vai anche a dire che Kibiusa che era comunque non è che avessi provasse sto grande affetto per usarli verso la fine va a dirle tu sei quella a cui ha voluto più bene di tutti di nuovo è un incensare Usagi oltre le misure necessarie e fare un torto al bellissimo personaggio di Pluto perché era stato il loro amore amichevole tra tra Pluto e Kibiusa a generare finalmente una reazione positiva in questa bambina non era stata Usagi che correva pericoli a risvegliare Kibiusa anzi Kibiusa era così gelosa di Usagi e la osteggiava così tanto che le si è schaiata contro più volte non gliela cercato di ucciderla non gliene fregava niente non aveva questi sentimenti verso Pluto e quindi che poi venga a dire che lei è stata la persona più speciale della sua vita non dice la persona più speciale della sua vita ma quella ti ho voluto più bene di tutti per me è stato un piccolo colpo al cuore in conclusione per me è stata non pensate che mi piaccia anche se vado in giro dicendo che comunque Usagi mi è apparsa abbastanza Mary Sue nel manga e che il manga non è questo grande capolavoro che qualcuno sembra ritenere non è che mi piaccia scoprire tutti questi difetti io non li avevo visti prima e non li avevo visti perché come dicevo l'ata che è uc è abile a inserire tanti elementi affascinanti che si rifanno a leggende a conoscenze che comunque hanno presa sul lettore che fanno apparire quindi i suoi personaggi e ciò che sta raccontando più più pregnante di quanto non lo sia e quindi avevo avuto un'opinione abbastanza positiva e scoprire così adesso togliendomi dalla testa quelle cose che io ci avevo inserito scoprire che è molto più semplice e molto più pieno di errori scusate è terribile questa frase rimane un'opera che si può leggere anche senza la lettura che ho fatto io e mi ricordo infatti che quando ero ragazzina io non ci avevo visto tutto questo problema nel mirishuismo di Usagi perché mi sembrava un messaggio simile a quello che mi passava all'anime storico anche la Usagi dell'anime storico a un certo punto mostrava queste caratteristiche di eccessiva bontà e veniva fatto vedere che lei era comunque bravissima quindi quando Usagi nel manga si diceva io devo essere forte e coraggiosa io devo bisogna credere nell'amore così io coglievo semplicemente questi messaggi qui e non pensavo tutto il resto e non avevo un'opinione così negativa e si può fare si può come lettori è solo che se si finisce col vedere insomma semplicità che l'autrice ha scelto per raccontare questa storia poi è difficile non vederla più infatti non so se magari mi state volendo male perché ve le ho fatte notare se siete d'accordo con me o magari ancora non lo siete e non dovete essere per forza d'accordo con me alla fine stiamo parlando di un'opera di fantasia che fa parte anche della nostra immaginazione della nostra infanzia e è sempre bello se uno riesce ancora a godersi quello che ha amato quando è quando era bambino o comunque più giovane perché ha una sensazione che porta che che porta un po' di calore nel cuore come si direbbe in questi in questi manga riassumendo mi è piaciuta Pluto e mi è piaciuta abbastanza chi vi usa fino a che non hanno provato a farla somigliare troppo a sua madre recentemente ero andata un po' avanti nella lettura col quarto arco e ve lo premetto io del terzo arco penso anche peggio di questo secondo qua perché ho notato tutti gli stessi problemi di meriscioismo e il fatto che tutti i personaggi intorno ruotino intorno a quello che prova Usagi nel quarto invece quando ho cominciato a leggerlo Usagi mi è stata simpatica perché ho visto che cominciavo a pensare a qualcuno che non era lei stessa e soprattutto la trama non ruotava intorno a lei vi invito a considerare il fatto che se Lata che Auchi non si fosse resa conto di aver parlato troppo di Usagi e di aver incentrato troppo la storia su Usagi non avrebbe cambiato un modo di scrivere e invece lo ha fatto da un certo punto in poi si è accorta che la sua storia non aveva il respiro che poteva avere e per questo ha cambiato rotta però era una breve anticipazione e chi lo sa poi magari nel terzo arco ci trovo qualche altra cosa più interessante o positiva non lo so io di solito quando prendo così come mi è capitato adesso quando prendo un arco del manga o qualunque opera che sto leggendo mi impongo di dire senti dimentica tutto quello che hai pensato le volte precedente hai qui la storia la storia qui è tutto quello che ti serve per valutarla e quindi leggiamola e magari quindi lasciando da parte i pregiudizi il terzo arco mi piacerà di più forse no ed è questo è molto probabile grazie per avermi ascoltato spero di non avervi depresso troppo e ci vediamo alla prossima recensione grazie a tutti